E poi iniziamo con la polemica suscitata oggi, un muso duro, molto alta, tra uno dei principali operatori nel settore del traffico marittimo, passeggeri, mi riferisco all'onorato armatori, quindi Mobile Lines, Tirrenia e tutte le compagnie che controlla, contro, diciamo, il contratto dei marittimi e le clausole che riguardano contratti di assunzione di marittimi extracomunitari in base a contratti non italiani, dopo il meteo. 17.32 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berrisoni, allora, il primo tema, oggi c'è stato uno scontro che voglio fare raccontare, però al diretto interessato, preciso subito che abbiamo cercato anche Confitarma, ossia la Confederazione Italiana Armatori, sia come Presidente Emanuele Grimaldi, ma non è raggiungibile all'estero che il direttore sta poco bene, quindi li abbiamo cercati, non possono intervenire, li riavremo. Che cosa è successo? Che oggi, in occasione della presentazione a Milano della nuova holding che raggruppa le compagnie Mobile Lines, Tirrenia e Toremar, Vincenzo Norato, che è il Presidente di Onorato Armatori, ha definito, se ho ben capito, indecente la posizione di Confitarma, ossia sulla possibilità che vengono assunti i marittimi extracomunitari in base a contratti non italiani, però nello stesso tempo Confitarma insiste nel chiedere le esenzioni fiscali previste. Siamo in collegamento con il Vincenzo Norato, appunto Presidente e Amministratore Delegato di Mobi e Presidente di Onorato Armatori. Buonasera. Buonasera. Allora, qual è il problema? Cioè, sta diventando, non, non, lei è di Napoli, insomma, molti la conoscono anche per Mascalzone Latino, per la sua avventura, diciamo, all'America's Cup, e ha a Napoli, se non ricordo male, anche un centro che aiuta i bambini di Scampia, vado a memoria, perché non potremmo... Abbiamo una scuola di vela da dieci anni per, praticamente, accogliamo i bambini dei quartieri di Ficina, li abbiamo alla vela e ai mestieri del mare. Ecco, no, lo premetto perché, vista così, la sua polemica, sembra una polemica, mi passi il tema, leghista, o meglio, non leghista perché non parla di assunzioni a norma, ma molto, molto, diciamo, contro gli extracomunitari. Lei ha definito indecente la posizione confitaria, ma anzi una schifezza. Che cos'è il problema? Qual è il problema? Guardi, liberiamo subito il campo, niente contro gli extracomunitari, anzi, seguendo le parole di Papa Francesco, aprirsi agli extracomunitari, aprirsi con la nostra tradizione e con la nostra cultura, ma anche con i nostri contrasti. Se aprirsi agli extracomunitari per confitarmi significa portarli nel nostro paese, pagarli un terzo di quanto costa un marittimo italiano, vuol dire portare in Italia delle persone che coeranno odio e domani saranno legittimate a tagliarci la gola. La mia non è una posizione leghista. Quindi, voi dite, attenzione, come settore voi avete la quasi totale esenzione fiscale, giusto, dal 98, e questa non la contestate, se ho ben capito. Guardi, chi parla è un armatore. Noi, dal lontano 1998, attraverso tanti governi, tante legislature, abbiamo una serie di privilegi. Il primo privilegio è la quasi totale defiscalizzazione. Non paghiamo i contributi IRPEF, non paghiamo l'INPS. Abbiamo anche, dal 98 e oggi, con la legge di stabilità, 900 milioni di euro stanziati in un triennio per noi, ma tanta sensibilità dello Stato dal 98, attraverso tanti governi, aveva i DAS come solo ed unico per il DEC l'occupazione dei marittimi italiani. Se questa, con la manovra lobbistica che sta facendo la Comit-Arm, viene meno, tra l'altro prevedendo l'imbarco di marittimi extracomunitari a contratti non nazionali, ma a contratti per equazione, per equazione sociale, a questo punto mi domando lo Stato italiano perché deve darci questi privilegi. Ecco, no, mi faccio capire, perché molti ascoltatori scrivono, ma non capiamo il problema, ci sono già extracomunitari che lavorano sulle navi da crociera. Voi fate crociera, ma fate anche collegamenti. Però lei dice che questi lavorano con contratti italiani. Ma guardi, dobbiamo fare una differenziazione. Noi stiamo parlando di navi da crociera che stulcono tutto il mondo, noi stiamo parlando di un cabottaggio, cioè linee regolari tra paesi comunitari e poi anche e soprattutto linee di cabottaggio italiani. I collegamenti interni, cioè Sardegna, Sicilia, Elba, Corsica, insomma quello che conosciamo. Questa è l'ultima sacca rimasta per l'occupazione dei marittimi italiani. Se la visione della confidale mandasse avanti significherebbe mandare a casa 15.000 famiglie. Io solo dovrei fare 3.500 lettere di licenziamento. E questa è una visione, non riesco a immaginare niente di peggio francamente. Cioè lei quanti dipendenti italiani ha sul totale? Sono circa 4.000, 4.000 su 4.000, non ho uno straniero. Ok, però se lei avesse uno straniero, se ben capito, lei dice io lo prenderei con il contratto italiano? Assolutamente. Mentre la proposta di Confitarma dice possiamo prendere anche extracomunitari con un contratto non italiano, un 30% in meno lei ha calcolato? Non un 30% in meno, un terzo del costo del marittimo italiano. Non è 30%. Cioè il 70% in meno quindi? Assolutamente sì, un terzo del costo del marittimo italiano. Ho capito. Ma scusi, prima di fare questa denuncia, lei ne ha parlato con Confitarma? Guardi, il discorso Confitarma oggi è un discorso assolutamente chiuso, c'è una sola visione che è quella del Presidente. D'altronde la visione degli armatori è quella di dire, ma perché bisogna fare questa polemica? Se tu licenzi gli italiani guadagni un sacco di soldi. I barchi e i comuni con questi contratti guadagni un sacco di soldi. Essendo questa la visione della Confitarma, si renderà conto benissimo che il dialogo e la dialettica è completamente chiuso. Tra l'altro, da quello che ricordo io, però potrei sbagliarmi, molti di questi lavoratori del vostro settore vengono dal sud, lo dico perché sappiamo che lì ci sono tassi di disoccupazione doppi, tripli rispetto al resto d'Italia. È ancora un grosso bacino per i lavoratori del settore marittimo nel caso vostro, trasporti? Guardi, basti andare a Ercolano, a Torre del Greco, a Torre Annunziata, ma poi più giù nelle Puglio, in Calabria, in Sicilia, per rendersi conto delle migliaia di marittimi che non trovano lavoro e che aspirerebbero ad andare a lavorare sul mare. Io stesso personalmente la mattina quando mi sveglio sulla mia e-mail trovo 10-20 richieste di imbarco. I lavoratori che sono a casa, poi pensiamo se passasse questa visione di Confitarma dovremmo mandarmi a casa altri 15 mila. Nel sud non ci vorrebbe la polizia e i carabinieri, ci vorranno i carri armati per contenere i risultati di questa visione. Quindi lei dice o ci levategli le esenzioni oppure giustifichiamo queste esenzioni come settore tutelato perché assumiamo con contratto italiano e in primis italiani? Io dico soltanto questo. Se gli armatori hanno e noi stiamo avendo questo tipo di trattamento extra favore, cioè defiscalizzazione, imps e imps pagata, noi dobbiamo dare un payback. Il payback qual è? Imbarcare italiani o comunitari, oppure anche extracomunitari, ma a contratto italiano. Ma altrimenti lo Stato, la domanda è banale, perché deve pagare questi soldi? Si parla di spending review, se passa la linea di confidarma, che è linea di imparcare extracomunitari ai contratti che vuole confidarma, cioè a quattro soldi, che succede? Cosa ne viene fuori? Mi scusi, quanto guadagna adesso un marittimo imbarcato con contratto italiano appunto su per esempio da voi? Il primo imbarco, un ragazzo in primo imbarco guadagna netto, cioè un ragazzo che alla prima volta su una nave circa 1800 euro netti al mese, per questo esiste la scuola di mascazzone latino, per questo voglio levare i ragazzi dalla strada e portarli a un'occupazione sul mare. Un extracomunitario guadagna circa 800, quindi l'alternativa sarebbe... Sarebbe 3.700 che è un buono stipendio di primo ingresso, lo dico pur capendo che sia un lavoro anche usurante, però insomma di primo ingresso è un buono stipendio di questi tempi, a maggior ragione se poi il vaccino diciamo dei lavoratori è nel nostro sud rispetto agli 800 euro che guadagnerebbe l'extracomunitario non in quanto tale, ma se con contratto diciamo non italiano, capito bene? L'italiano con contratti particolari, tra l'altro gli 800 euro sono un caso già eccezionale. Staremo a vedere, ma adesso che cosa può capitare? Dopo la sua denuncia Confitarma ha proposto questa cosa, a me dispiace non averli come interlocutore, li abbiamo cercati, però o c'è la possibilità di tornare indietro? Guardi, chiaramente la loro è una visione, stanno lavorando la Confitarma trincerandosi dietro l'Unione Europea chiedendo l'estensione di questi primi legge e altre bandiere, ma siccome l'interlocutore del governo è Confitarma, non è Vincenzo Morato, per me è importante far rendere conto l'opinione pubblica, il governo che è sensibile, è un governo di giovani, è un governo chiaramente orientato verso l'occupazione dei giovani che la posizione di Confitarma è una posizione assolutamente... Sì, sa che mi scrivono molti camionisti che è quello che è avvenuto nel trasporto su strada con gli autisti rumeni, autisti polacchi, adesso io non so quanto calzato sia il paragone, leggo semplicemente i messaggi che arrivano su WhatsApp o su SMS a 349-238-6666, ma sappiamo che c'è stato un problema enorme anche nel trasporto su gomma dovuto alla concorrenza e altri salari e altri veicoli ai pochi controlli. Guardi, conosco la situazione, per quella dei marittimi in questo caso sarebbe ben più grave. Onorato, come vanno intanto, visto che prima parlavamo di consumi, cambio leggermente tema nel finale, le indicazioni che avete, prenotazioni, consumi, segnalano un traffico in leggero aumento, traffico passeggeri o no? Ci sono due componenti importanti, il nostro obiettivo, l'obiettivo di Onorato Armatori con Mobi e Tirenia è riportare in Sardegna quei 2 milioni di passeggeri che sono stati persi con la crisi e con l'aumento del costo del carburante, oggi abbiamo una congiuntura favorevole, la prima è chiaramente un certo ottimismo, un certo respiro perché l'Europa e l'Italia in particolare sembra scelta la crisi. Il secondo punto è che la diminuzione del costo del carburante sta portando noi a praticare una tariffa. Quindi le tariffe che avremo quest'estate per andare in Sardegna, in Sicilia, all'Elba, in Corsica saranno più basse? Certamente. Ah sì? Dell'anno scorso? Assolutamente. Ma di quanto? Guardi, sulla Sardegna oggi noi abbiamo varato una tariffa, la prima tariffa sui residenti a soli 14 euro si va in Sardegna, per i residenti nativi in Sardegna. Le tariffe invece per il grande pubblico hanno oscillazioni che arrivano oltre il 30% di sconto. Rispetto all'anno scorso, meno 30%. Onorato, io aspetterò la risposta anche alla Confitama, li cercheremo anche nei prossimi giorni, ci interessava capire il perché di questa denuncia. è chiaro che, insomma, letta così abbastanza in dubbio, va privilegiato proprio, ma non va privilegiato il contratto italiano proprio per gli sgravi molto alti di carattere fiscale che il vostro settore ha e che paghiamo tutti noi, paghiamo i vostri sgravi e poi paghiamo anche i vostri biglietti. Quindi capisco benissimo la polemica, poi mi sembra che tutto ci voglia in questo momento, tranne che mandare a casa migliaia di dipendenti e di lavoratori imbarcati, di marinai imbarcati sulle vostre navi, ripeto, non perché si trova qualcuno di migliore a parità di contratto, ma semplicemente perché fai un contratto peggiore a un extra comunitario. Questo obiettivamente temo che, sono curioso della posizione di Confitama, ma capisco, ma sono curioso di capire anche qual è l'obiezione che si può fare in questo caso. Grazie intanto a Vincenzo, onorato presidente, al ministro legato di Mobi e presidente di onorato armatori. Grazie a voi, buonasera. No, qualcuno mi scrive concorrenza, concorrenza, concorrenza. No, guardi, non gettiamo perle e porci. La concorrenza è una cosa molto seria e va a vantaggio di noi clienti, in qualunque settore operiamo. Se c'è concorrenza non ci sono monopoli o oligopoli, non paghi tariffe in più, non paghi tariffe, posizioni, come si chiamano in qualche modo, di rendita, cosa che abbiamo visto negli anni passati quando non c'è la concorrenza. La concorrenza però è come una partita di calcio, si fa con lo stesso campo da gioco, quindi la concorrenza non va confusa con il dumping, nel caso dei prodotti commerciali, e non va confusa con trucchetti per cui fai contratto al lavoratore che costa meno, lo fai passare per l'italiano, lo fai operare sul mercato nazionale. In questo caso tra l'altro non sono neanche comunitari i lavoratori, perché sono, secondo la denuncia, di un orato extra comunitari, per cui voglio dire, la concorrenza è una cosa, il regime di semiconcorrenza è un'altra e soprattutto, ripeto, uno può dire quello che vuole, ma allora se, da come la capisco io, vuoi assumere con contratti non italiani personale extra comunitario, non capisco perché deve avere le esenzioni fiscali che nascono proprio per tutelare l'occupazione di questo settore, almeno delle due luna, no?